Balla a tutti ragazzi e benvenuti sono il vostro Mighty Mars, oggi siamo su Trigon Space Story. Allora ringrazio gli sviluppatori che mi hanno regalato questo gioco e me l'hanno regalato ancora prima che uscisse, quindi li ringrazio una volta di più. Credo che questo gioco sia uscito da un paio di giorni o ancora deve uscire perché ho guardato su Steam ho visto che non credo si possa ancora comprare e comunque io ve lo presento, poi al limite appena sarà disponibile lo comprirete. Trigon è un gioco di Roguelike Adventure e ha una buona parte anche di simulazione, quindi noi andiamo a fare New Game. Possiamo scegliere tra gli umani con tre persone di equipaggio a bordo, Emilia, Evie e Samuel, con diverse caratteristiche, resistenza, eccetera eccetera. Lui praticamente è un operatore per quello che si occupa degli scudi della nave, lui è il pilota e lui è una specie di credo medico. Poi armi su questo veicolo abbiamo il Thunderbolt e il Mk2 Blaster, ok. O se no possiamo prendere gli alieni, abbiamo Naritala e Rewin. Rewin, ok, anche loro hanno le varie specifiche. E poi questa nave qui sembrerebbe più piccolina, ha la Mk2, ha il Montubombo, credo che sia qualcosa per il bombardamento, e il Twin Plasma, sarà Turbo Blaster. Quindi quale vogliamo prendere ragazzi, direi proviamo, partiamo con gli umani, poi se vi piace il gioco proveremo anche l'eshterestri. Ora, per ora il gioco ragazzi è in inglese, non credo ci siano altre lingue, almeno che non l'abbiano aggiunto adesso. Qua abbiamo le nostre risorse, monete, discorso monetario, discorso di praticamente risorse, cibo, hot-hoc, e questo pensi sia una sorta di energia. Poi qua abbiamo l'integrità della nave, e qua lo Spaceship, gli scudi. E qui abbiamo lo Spaceship Management, ok. Poi qui è la nostra navicella tutta con le varie stanze, la cabina di pilotaggio, la cabina medica, la cabina degli scudi, questa è praticamente la cabina delle porte automatiche, questa è la cabina degli armamenti, questa è dell'ossigile, questa è del motore. E qui ti fa vedere quella del nemico, che poi, vabbè, penso che dipenderà più o meno da che nave troveremo. Siamo avanti. Ok, qui ci dice che possiamo spostare gli omeni di da una parte all'altra. Qui possiamo incrementare o abbassare le varie modalità di energia, quella degli scudi, quella, non so, la croce sarà medica, qualcosa che è fuori, qualcosa di medico, eccetera, eccetera. Questo è il reattore, poi qua che cos'è, ah, qui per attaccare praticamente queste sono le armi, bisogna attaccare in questa maniera qua, sinistra-destra, e questo è per il salto spaziale. Qua abbiamo anche il tempo, veloce, lento e pausa. Ok, quindi noi siamo questi, i nostri bei tre personaggi, per ora Ivi sta qua al motore, lui sta qua alla mira, diciamo all'armamenti. Questo che cos'è? Questo è il sensore e questo è la cabina di pilotaggio. Penso che facendo stare l'oro nella stanza acquisirà dei punti in più di manovrabilità, non lo so. Quindi noi per ora siamo fermi, abbiamo 800 gold, gold, monete, gold, quello che volete, 800 di materiali, 48 panini, 16 di energia, 300 di punti vita, 20 di scudo, poi qua vi fa vedere tutto l'interno, tutto quello che penso sia modificabile. Ah, vedete, qui per fare qualsiasi modifica vuole un buon numero di... Eh sì, cavolo, vedete che aumenta di uno. Noi praticamente credo che facendo le missioni acquisiamo questi frammenti e piano piano aumenteremo la nostra nave. Per esempio con 40 potremmo aumentare di uno lo scudo, fino a un massimo di 8. Ok, e poi qua c'è il nostro cargo, va praticamente dalla stazione cargo, io credo. 10 slot, 14 slot, 18 slot e così via. Quindi, fino a qui ci siamo. Qua possiamo aumentare anche i nostri, diciamo, personaggioni. Però bisogna vedere come fare. Qua abbiamo le weapons, ma anche qua bisogna... Io questo posso weaponare qua? Non posso weaponare. Quindi, boh, andiamo. Io direi che, vedete, anche per andare nel ripresparso, consumiamo. Però, da qualche parte dovremo andare. Noi siamo a Tilita, Talita. Andiamo a Ein, Ein, vai. Mi va, spende quello che deve spendere. Ok. Qui noi possiamo scegliere... Dice che ci offrono un lavoro. Noi qua possiamo scegliere se fare la missione o no. Ti dicono anche... Io direi che possiamo anche mandare un messaggio e distruggere la nave pirata. Voglio lo scontro. E la Madonna! Allora, ferma, ferma tutto. Sono un po' troppo grossini per i miei gusti, eh. Allora, io cosa posso fare? Ah, lui c'è. Posso aumentarlo di uno al massimo? No. Longbow rocket. Però non me li dà. Posso usarli? No. Per ora mi fa usare solo questo. Noi possiamo decidere dove spararlo. Ah, io direi gli scuri. Quindi... Scusi, no? Mi spara, mi piglia. Allora, a noi gli scuri siamo a zero. A lui sta a metà. Io potrei diminuire qualcosa, tipo i motori. Vorrei capire come. La stanza degli scuri è questa? Che nel caso... Ah, mai non posso sparare più una scippa? Scusate, mai non posso sparare più? Sono tutti defunti? Non sto capendo. Non capisco se sono defunti d'oro. Perché a voi è quando mi fa sparare. Ho fatto sparare un colpo e poi buonanotte. No. Peccato non si possa zoomare. Io vorrei sparare... Io vorrei sparare... E andrò ancora sviluppato per chi non ci fosse anticipato. L'idea potrebbe essere carina, però secondo me bisogna lavorarci molto, renderlo molto strategico, molto simulato e con molte più opzioni di manovra. Perché io qua non è che sono riuscito a manovrare molto, cioè c'è solo questo MK2 che faceva schifo. E poi sicuramente ci sarà anche la maniera di utilizzare quest'altro che molto probabilmente è più potente, però insomma... Vedremo l'idea di fondo non è malvagissima. E niente ragazzi, fatemi sapere se come idea di gioco vi può piacere. E niente ragazzi, noi ci vediamo per la prossima volta. Ciao a tutti!